Ciao a tutte ragazze e ben ritrovate ci troviamo con il video sulla beauty box di Look Fantastic e questo mese vi mostro quella di gennaio allora ecco la box nuovo anno e nuovo design troviamo un logo nuovo e questo mese mi aspettavo un colore decisamente più invernale e invece troviamo questo acceso color Tiffany e questo giallo limone abbastanza fresco come colore invernale brochure alla mano e come ogni mese la rivista Elle che è in sintonia con la scatola e troviamo un bio in sé in copertina allora brevemente questo mese ho trovato non sei ma sette prodotti praticamente ci sono due prodotti che sono due in uno però come prodotti ne troviamo sette vi dico già che la box mi piace tantissimo e la vediamo insieme così poi mi fate sapere se anche secondo voi è una bella box allora parto subito da un prodotto che è molto particolare e appena l'ho vista io felicissima allora ecco qui praticamente Glove è il marchio all'interno di questa bustina troviamo tre dischetti per struccare gli occhi e gli occhi il viso il make up sono iper iper morbidi e sono praticamente da un lato come potete vedere un po' pelusciosi e sì dall'altro anche però questo sì questo è un po' più peluscioso quest'altro è un più la classica microfibra non so se potete vederlo da così ma sono di una morbidezza unica ce ne sono tre non presentano cuciture e sono fantastici perlomeno al tatto però secondo me lo sono anche per struccare gli occhi io da un po' di tempo da pochissimo due mesi ho smesso di utilizzare i dischetti classici in cotone e anche un po' le saldette struccanti e sto utilizzando dei pannetti per rimuovere il make up quindi sono felicissima di aver trovato questo perchè sto abbracciando anche io questa filosofia ovvero di utilizzare questo metodo di struccaggio perchè comunque dà aiuto un po' l'ecologia e poi è anche carino comunque è una sensazione molto bella morbida e poi mi fa piacere trovarli perchè sebbene io già ne abbia di questi prodotti dopo un po' si possono rovinare va cambiato il prodotto e quindi questi qua li terrò di scorta ora sicuramente però non li utilizzerò che sono due mesi che sto utilizzando un guantino che presi da Tigotan addirittura nella scatola io ne ho trovati due di guanti ma ora ne sto utilizzando uno comunque questi li trovo di scorta e sono felicissima perchè era da un po' che per questo metodo di struccaggio volevo provare i prodotti di Glove che è conosciuto proprio perchè fa questi prodotti questi panni in microfibra questi dischetti per rimuovere il make up addirittura dicono che questi vanno bagnati con un po' acqua tiepida e non serve utilizzare prodotto acqua micelare l'acqua detergente quello che volete io ogni tanto utilizzo anche solo l'acqua alcune volte siccome ho tante scorte utilizzo anche l'acqua detergente quindi utilizzo comunque un prodotto che mi aiuta soprattutto quando ho un trucco abbastanza pesante sugli occhi poi un altro prodotto che troviamo e sono stata super felice di trovare è questo siero per il viso in mini taglia mentre scusate questi penso proprio che siano in full size che praticamente avevamo visto faceva parte dello spoiler di dicembre questo è quindi un siero per il viso come vi ho detto da 10 ml della marca eCooking questo è il marchio ed è certificato contro le allergie ed è vegan certificato vegan carinissimo sono stata contentissima di averlo trovato perché ho solo un siero in utilizzo e non ne ho altri di scorta non li ho comprati altri perché sapevo che prima o poi all'interno di queste box avrei trovato un siero comunque niente questo dice che non contiene fragranze ed è un booster idratante è made in Danimarca e questo è il prodottino questo è il tappo e poi ovviamente a pump carino sono 10 ml ma essendo un siero ne basta poco comunque ho un modo di provarlo poi altro prodottino di un marchio che non ho mai utilizzato ma questo neanche mai sentito parlare glove si questo altro neanche mai sentito parlare perlomeno io comunque altro prodottino è il titri oil il marchio è australian body care e questo praticamente è uno stick che contiene il tt oil e serve praticamente io già ho letto la brusure che non avevo capito bene l'utilizzo serve praticamente da mettere sopra i rossori i brufoletti tutti i punti un po' critici si presenta così è carinissimo perché il rotto è questo qua eccolo si presenta come il lucidalabbra che facevano una volta vero? ve lo ricordate? che hanno qui il roll on quindi è un semplice questo praticamente è il titri oil completamente liquido e lo si applica sui punti critici per aiutare a seccare a sgonfiare a togliere il rossore a sgonfiare il brufolo eccetera io ne ho bisogno perché la mia pelle sta tornando abbastanza impura un periodo tutto ok ma ora sono tornati io ho una pelle molto impura e quindi proprio per questo motivo sono stata contentissima di trovare questo tipo di prodotto che tra l'altro non ho poi altro prodotto questo invece è per il corpo è questo qui ve lo faccio vedere e che cos'è allora il marchio è questo qua mio no scusate non sono sicura sì questo è il marchio mio skin care il prodotto è a pump come potete vedere contiene 30 ml e che cos'è è un prodotto per décolleté e seno e sì è un body serum quindi un siero per queste zone è tonificante e rinfrescante ma tanto rinfrescante profuma tantissimo di mentolo di eucalipto e io infatti lo otterrò sicuramente da utilizzare nei mesi più caldi e quindi sì da una grande morbidezza e intensità di tonificazione a questa parte del corpo prodotto particolare molto interessante poi ecco i due prodotti in uno di cui vi parlavo prima e sono due prodottini qui del marchio professional sebastian dark oil allora uno è lo shampoo mentre quest'altro è il conditioner il balsamo quindi di questa linea entrambi contengono ben 50 ml e contengono entrambi i prodotti jojoba e olio di argan quindi argan sicuramente indicati per chi ha capelli secchi perché sono entrambi ingredienti che danno morbidezza e lucentezza al capello sì ultimo prodotto è di make up e ho trovato questa matita penso in full size del marchio lord and berry un marchio che mi sembra proprio rivenda look fantastic è una matita labbra come avevo detto scusate il numero è 3102 just naked ed è un bellissimo marroncino nude sì tra un rosa e un marroncino molto portabile il colore è questo qui anche un peletto più chiaro di quello che vedete ora bello mi piace perché è un colore passepartout per tutti i giorni quindi ideale e va bene anche come da mettere sul rosetto che ho ora sì wow io ora ho un rosetto di neve che si chiama niente non mi viene il nome birdie cake birdie cake ce l'ho fatta comunque niente questa è la box di gennaio di look fantastic a me personalmente mi è piaciuta tantissimissimo sono molto contenta di più o meno tutti i prodotti che ho trovato e qualcuno lo vorrei già provare fatemi sapere cosa ne pensate se vi è piaciuta e noi ci vediamo prossimamente con la box di my beauty box e altri video ciao a tutte ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti